Attenzione. Sebbene questo gioco non contenga la regola 34, le immagini barra animazioni e barra o suoni di questo gioco possono essere visti barra ascoltati come successivi e potrebbero non essere adatti a un pubblico più giovane. Ma che cazzo? Ciao a tutti Youtubers, come butta? Spero che vi butta la grande. Beh si, dopo il gamet live in Need for Speed Underground 2 Wolfenstein, un tizio qualunque mi ha suggerito di fare Five Nights in anime, che sarebbe Five Nights at Freddy's in versione anime. Primo. Avete visto il trailer di GTA Long Night? Vi lascio il video che vi comparirà a sinistra. Oppure andate a vedere il video nella descrizione. Perché no? Comunque, iniziamo subito a giocare. Allora, sento un telefono che squilla, chi sarà mai? Ciao mister sto cazzo, em volevo dire X Franklin 3811, benvenuto nel mio ristorante, io mi chiamo Alfonso, loquendo 1925. Dimmi un po', questa dovrebbe essere una pizzeria per bambini se non mi ricordo male. Em, no questa è una pizzeria vietato ai minori di 18 anni. Ma scus. Si, esatto, è una pizzeria per i pornostar, quelli che hanno il cazzo duro di Rocco Siffredi. Buon divertimento assegarti come una porco, X, D, E, 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 X, D, D, D... Che figura di merda! Ah, dimenticavo! Non esagerare con la sede, potresti farti male al pisello, agagagagaga. Baffanculo. Come cazzo si fa a gestire una pizzeria nel genere? Questa pizzeria dovrebbe bandire dal Yoku Endo City giapponese dove Shaxx ha fatto una gara con Takumi Fui Vara di initial D. Succede che invoco i grandi poteri motorizzati alla old school, lol. Ehm. Ok. Penso. Non lo so io mi sento parecchio confuso. Tranquillo. Non c'è niente da capire tranne il fatto che mi sento pompato a merda. Aspe come pompato a merda, ma poi, cosa significa pompato a merda? Se siete gli iscritti di Shaxx, scrivete voi nei commenti cosa significa pompato a merda, perché non ci sto capendo niente. Comunque, non gioco Five Nights at Freddy's da una vita, da quando ci sono sti fan made creati apposta. Però ragazzi, a volte i fan made, possono essere brutti, e fatte male. Ma ci sono i fan made più belle, e fatte bene in questo momento. Ehi X Franklin, vuoi... Come? No grazie, tu non sei di mio genere. No perché sono frocio, ma queste ragazze senza capezzoli, non è di mio genere, ragazzi. Aio, ma fatti dare il numero. Ma sei fuori. Ma non del push, cazzo guarda come sta. Omino, ma sei diventato fumagalli. Tua mamma si fumaigalli, io fumo le carne. Ma c'è caso di sì, c'è vergogna. Omino, del ruore del corpo, si sta fumando la marijuana. Io grigare l'ergastolo. Omino, mi hai rotti, coglioni, con sti ergastoli. Rioskira X Franklin 3811a Winzerla Notte 1 Los Gopri Remosu, lamentate the five nights in anime. Auf Wiedersehen, heute.